La Trinità è utraversata da un pensiero. Il verbo si fa carne ha bisogno di un grembo. Dio cerca una donna e la rende madre. Tutta la umanità è concepita in Gesù. La Trinità è utraversata da un pensiero. La Trinità è utraversata da un pensiero. Grazie a tutti. Grazie a tutti.